Aumentano i contagi in Abruzzo e anche a Vasto per correre ai ripari, sarà riaperta da domani la postazione dei tamponi drive-in in città. Questa mattina sopra il luogo del sindaco Francesco Menna che è stato accompagnato dal dottor Rocco Mangifesta della ASL. È un sito che garantisce la normativa anti-covid per il flusso e il deflusso, la normativa di safety e security per la sicurezza. Quindi dalla macchina si entra, si fa il tampone e si esce regolarmente. Riapre da oggi, è possibile prenotare tramite il sito Zero Code e tramite il medico di base. Già da domani mattina dalle 10 e mezza alle 11 e mezza ci sarà il primo presidio per i tamponi molecolari. Dopodiché lunedì, mercoledì e venerdì si faranno tamponi dalle 8 e mezza alle 1 e mezza, andando dal medico di base e prenotando il tampone molecolare. Un presidio importante, un ringraziamento di cuore alla ASL, al dottor Shell, al dottor Rocco Mangifesta e a tutti gli sponsor che hanno contribuito a realizzare questo sito di Trevin che per noi è molto importante, soprattutto a seguito del fatto che ci troviamo ad affrontare la quarta ondata del covid. L'appello è naturalmente a vaccinarsi, l'appello è a fare la terza dose, già gli ultrasessantenni possono recarsi al presidio dei Salesiani, la palestra dei Salesiani per la terza dose che già è partita. L'appello è a tutti coloro che fino ad oggi sono incerti a capire che chi non è vaccinato e viene colpito da covid rischia di essere intubato se tutto va bene. Chi invece è vaccinato sta a casa tranquillamente con l'assistenza domiciliare della ASL. Quindi questa è la ponderazione e il bilanciamento che va fatto tra gli effetti negativi del covid dei non vaccinate e gli effetti di chi è vaccinato.